Tutti, molte sequenze di Qigong finiscono con la palla, tenere la palla, questa sfera, che le mani in realtà simboleggiano una rotondità di tutto il corpo, se fossimo in armonia noi ci fermiamo e diventiamo un uovo di luce senza fare stiramenti, senza fare allungamenti, senza massaggiare i meridiani, senza riprodurre gli animali, questo è il Qigong. Finito, siccome nessuno è in armonia abbiamo bisogno di arrivarci, ecco perché alla fine la palla, la palla alla fine per godere del Qigong, per godere del movimento della vita, non so, quello che vuole lentamente ha fai, 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 odori, pioggia di luce, movimenti della schiena, piegamenti, visualizzazioni, visualizzazioni, ringraziamenti agli altri in te, palla. A questo punto però ci rimani perché hai fatto tutto il lavoro di pulizia. Un tibao shi, infatti dopo cosa fai? Lo porti dentro dentro. Proprio si fa così, si dice di portare dentro un tesoro. Ci sono tre altezze a cui possiamo fare tibao shi. Il campo della trasformazione alto si chiama il campo della trasformazione alto. Si, shan, shan, tan kyi. È concentrato sul viso, sulla fronte, sulla centrale del viso, comprendono più punti. Poi abbiamo il campo della trasformazione centrale, cuore, stomaco, polmono, emotività. Poi abbiamo il campo della trasformazione basso, shan e shan, la radice. Alcuni cikungamano molto questo, alcuni cikungamano molto questo, alcuni cikungamano molto questo, ma questa è la base, all'altezza del punto. Quindi tre livelli del tantiello, superiore, centrale, terzo, terzo, il più importante è il cuore basso. E non significa nulla cosa, se non susscribbete a me.